ciao ragazzi non ci vuoi un nuovo brevetto guardate 1 2 3 4 carte blu il problema che appoggiate al palmo si stanno infuocando e decisamente si può fare veloce non ho tanto tempo ci siamo ci stanno infuocando ragazzi farò veloce guardate come funziona l'effetto semplicemente semplicissimo guardate qui ho una carta 4 dei cuori e qui ho un'altra carta come funziona il tutto si alternano le carte alternate e per magia qui ancora più i 4 dei cuori e qui ancora cosa succede se io le alterno e le miscello succede che io ho due anze interessante ma la cosa più strana che non ho mai capito è che io qui 10 e 10 se lo lascio a contatto guardate sta colorando tutte le carte io questo gioco non l'ho mai capito ciao ragazzi ciao 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 ciao